Allora, nella seconda giornata del torneo Città di Arco-Verpe Viola si è delineata una posizione abbastanza chiara per quanto riguarda i gironi, il girone A soprattutto e il girone D, mentre invece nel girone B e nel girone C tutto dipenderà ancora dalla terza giornata. Sono più chiaro e do i risultati. Juventus-Atalanta batte Atalanta 3-1, Napoli-Arco 3-0, Inter-Lazio 1-1 e in questo caso l'Inter poi si è imposta ai calci di rigore per 5-4 e lo dico perché sarà importante ai fini di un eventuale spareggio. Il Norgelland continua a sorprendere e ha battuto il Torino per 2-0, il Milan si è ripreso e ha battuto la Nazionale di Lettanti che è una cosa inutile e torno a ribadirlo per 2-0. Il Chievo ha pareggiato con il Parma che si è imposto poi ai calci di rigore 5-4, però in questo girone credo non serviranno. La Fiorentina ha avuto la meglio chiaramente del Sassuolo per 3-0, mentre il Verona ha avuto buon gioco con la rappresentativa del Trentino con la quale ha vinto 2-0. Dicevo dei gironi, nel girone A la Juve sorprendentemente perché all'esordio non aveva giocato affatto bene, ha battuto l'Atalanta, si è portata a punteggio pieno a 6 punti ed è praticamente promossa alle semifinali perché non la può raggiungere nessuno. Eventualmente la raggiungessero Napoli e Atalanta, hanno perso lo scontro diretto per cui cadrebbero comunque seconde. Nel girone D, come dicevo, l'altro dove tutto è deciso, tutto dipenderà oggi dallo spareggio tra Fiorentina e Verona, entrambi in testa con 6 punti, mentre Trentino e Sassuolo giocheranno per la gloria. Trentino è inteso come rappresentativa del Trentino. Nel girone B invece, il Norgelland che ieri aveva pareggiato con l'Inter, oggi ha battuto il Torino e si è portato a quota 4. L'Inter, che ha pareggiato con la Lazio, è rimasta a quota 2, così come la Lazio. Però nel caso in cui Inter e Lazio nella terza giornata vincessero, è possibile che i danesi, che non lo meriterebbero a questo punto, vengano scavalcati in classifica e quindi vedano in franto questo sogno di approdare per la prima volta nella loro storia le semifinali di questo torneo. Nel caso vincessero sia Inter che Lazio, varrebbero appunto, come dicevo prima, i calci di rigore. Poi nel girone C, il Chievo non potrebbe, non dovrebbe lasciarsi sfuggire l'occasione di qualificarsi per le semifinali, perché è in testa con 4 punti, grazie alla vittoria sul Milan e al pareggio con il Parma, però domani affronterà la presentativa nazionale che ha sempre perso fino adesso e quindi non dovrebbe creare problemi. È chiaro che Milan e Parma, Milan con 3 punti e Parma con 4, sono in agguato. Nel caso in cui il Chievo non riuscisse ad andare a di là di un pareggio o peggio perdesse, è chiaro che la vincente tra Milan e Parma potrebbe creare un brutto scherzo agli scledensi. Resta da dire infine, visto che la Juventus è praticamente sicura di approdare le semifinali, che non avrà 2-3 dei giocatori attualmente in rosa, su tutti il Colored del 2000, Keen, che è stato convocato, che domenica giocherà a Tirana con la nazionale Under 15, un amichevole. Scapini invece e Bianchi sono stati convocati nella nazionale Under 16 e sempre domenica dovranno recarsi a Recanati per rispondere alla chiamata di Zoratto. Si apre qui il discorso che alcuni giornali oggi hanno opportunamente affrontato del fatto che la federazione non può fermare i campionati per consentire al torneo di avere squadre le migliori con le prime scelte e poi consentire la convocazione delle nazionali per delle amichevoli, tra l'altro. L'unica nazionale che ha diritto di giocare è l'Under 17 che tra pochi giorni parte per la Germania, per lo spareggio, per una delle fasi del campionato europeo di categoria. L'Under 16 e l'Under 15 invece sono partite amichevoli, per cui non hanno bisogno di farle proprio in questo periodo, visto che l'Under 16 ha giocato il mese scorso, così come l'Under 15.